Aiuteremo e sosterremo la persona di qualsiasi età o classe sociale, istituendo un comune che pensa ai suoi cittadini e che diventi un punto di riferimento per le famiglie, prendendosi cura della gente fragile, degli insicuri e di chi è giornalmente esposto alla piaga della crisi economica. Dedicheremo centri diurni, servizi di accoglienza e mensa sociale in un programma generale che prevede la formazione e il consolidamento di un'unica rete di accoglienza. Se una persona o una famiglia si trova in condizioni di disagio, deve avere la certezza di poter rivolgersi al sindaco, ad un'associazione, al consultorio, al medico di famiglia, alla parrocchia, entità in sinergia e collaborazione tra di loro.